Il supermercato a marchio Eurospine, ipotizzato nell'area compresa fra via Trometta, via Pantano, via Zanardelli e via Carrara, non si farà. È infatti un no tombale quello che il sindaco Biancani e l'assessore Nobili sentenziano attraverso un comunicato che segue la consegna di circa 200 firme raccolte da un comitato di residenti, contraria alla nascita di un altro supermercato in un'area già congestionata di punti vendita di grande distribuzione. Biancani chiarisce che nessuna variante è stata approvata né lo sarà se la richiesta riguarderà la realizzazione di un ulteriore supermercato. Per Biancani e Nobili il no è infatti doppio in quanto sia tecnico che politico. Tecnico perché ad inoltrare le richieste nel settembre 2022 e nel gennaio 2023 è stata solo una parte dei proprietari del comparto, mentre per modificare la destinazione d'uso di questo tipo di area il PRG vigente prevede un intervento unitario e condiviso fra tutti i proprietari del comparto. Il no è però anche politico perché il comune ribadisce di puntare ad una rigenerazione in grado di valorizzare il tessuto urbano nel quartiere, ma la strada dell'ennesimo supermercato non è quella che si vuole perseguire. Un'area che resta dunque a destinazione residenziale e per servizi di piccole attività di vicinato.